Fare una nuova generazione di Astra porta sempre con sé delle sfide. Di solito la squadra che vince non si cambia, ma quando si parla di automobili invece i modelli che vincono vanno cambiati completamente. Questa nuova generazione di Astra cambia completamente, a partire da una piattaforma completamente nuova, elettrificata. La più grande novità di questa nuova generazione di Astra è l'elettrificazione, cioè il fatto di offrire insieme alla motorizzazione benzina o diesel anche una versione ibrida plug-in. Si tratta di una versione estremamente potente con 180 cavalli di potenza massima combinando il motore termico con il motore elettrico. Stiamo applicando un nuovo concetto stilistico, una nuova filosofia stilistica che si può evidenziare o caratterizzare con due parole fondamentali che sono audace e pura. Questa Opel Astra è caratterizzata immediatamente da questo visor. Il visor è il frontale di Opel Astra. Si ispira a un modello iconico del passato come Opel Manta. Questo elemento lo ritroviamo declinato all'interno di questa nuova generazione di Opel Astra. Anche qui abbiamo applicato i concetti di audacia e di purezza. Quando ci si siede all'interno di un Astra è ancora più sorprendente l'impatto perché abbiamo introdotto una cosa che si chiama Pure Panel e cioè il quadro strumenti che è completamente digitale si raccorda perfettamente con lo schermo dell'infotainment a creare una superficie vetrata unica intorno al guidatore. Il quadro strumenti digitale permette di vedere soltanto le informazioni utili nel momento in cui sono necessarie così come gli allarmi sono evidenti a tutto schermo quindi la tecnologia, la modernità di questa nuova Opel Astra è anche funzione, è anche sicurezza e comfort. Opel Astra in questa nuova generazione porta con sé tantissima tecnologia per esempio i fari a matrice di led mantiene la posizione al centro della corsia e questo insieme al cruise control attivo permette dei viaggi in autostrada estremamente confortevoli e sicuri. È possibile ordinare Opel Astra già da subito, si può andare sul configuratore Opel oppure presso una concessionaria italiana. Le prime consegne avverranno a partire dal mese di giugno. Il prezzo di Opel Astra parte da 24.500 euro.